Ciao amici YouTube, benvenuti, bentornati a questo appuntamento. Quest'oggi vedremo le previsioni per le prossime 48 ore. Andremo a capire quindi come sarà l'energia delle prossime 48 ore chiedendo alle nostre carte. Questo è un messaggio collettivo per tutti quanti, non è un interattivo. Ognuno di voi lo può cucire addosso, seguendo proprio la propria vita, quello che state vivendo. Colgo l'occasione per farvi gli auguri di queste festività. Spero che avete trascorso un felice Natale. Intanto vi ricordo che se non vi siete iscritti al canale potete farlo tranquillamente cliccando la campanina che trovate in basso. Ricordo che nelle notifiche dovete cliccare tutte, perché così almeno potete ricevere poi tutte le notifiche. Questa settimana usciranno anche i video del taroscopo, quindi le nostre carte, i nostri tarocchi, per ogni segno zodacale. Andremo a vedere il 2023 come sarà. Intanto è già uscito il video sulle previsioni a livello astrologico, lo trovate sul mio canale, spero che vi sia piaciuto, eccetera. Quest'oggi invece andremo a vedere come saranno le previsioni per le prossime 48 ore, quindi un'energia generale per le prossime 48 ore. Grazie come al solito, io sono Astro per chi non mi conosce, per qualsiasi informazione avete la mia mail e la mia pagina web. Allora, vediamo un po' cosa ci dicono queste prossime 48 ore con i nostri arcani maggiori. Io purtroppo, essendo a casa, non ho l'inquadratura giusta, adeguata in questo momento, però possiamo sicuramente vedere cosa accadrà nelle prossime 48 ore. Prossime 48 ore. Vediamo, carta nascosta abbiamo l'imperatore, qui abbiamo una figura maschile molto presente nelle prossime 48 ore. Una persona probabilmente che riguarda un uomo, un uomo che... Io, a me la carta dell'imperatore piace perché parla sempre di stabilità a livello lavorativo, probabilmente queste non sono le giornate che riguardano molto il lavoro, ma riguarda spesso una stabilità nostra personale, anche se l'imperatore a livello sentimentale è un uomo molto forte, molto influente nella nostra vita, ma è anche una persona probabilmente che ha un po' di freddezza nell'esprimere i propri sentimenti. Questo è dovuto probabilmente al fatto che sia una persona che in questo preciso momento sta ricercando probabilmente una sua verità su alcune situazioni personali. Sta anche proteggendo un po' il proprio campo, sta proteggendo probabilmente la sua vita. Qui abbiamo un controllo molto forte delle emozioni, perché l'imperatore è una carta che rappresenta spesso la disciplina. E' vero, è una persona rigida, è una persona forse anche un po' testarda, ed è probabilmente un dominatore di una situazione, quindi sta dominando la scena a livello personale, proprio perché questo suo controllo di una realtà lo rende in qualche modo molto determinato, ma nello stesso tempo probabilmente anche un po' rigido nelle proprie scelte, anche nei propri sentimenti. Devo dire qui, questa è una carta di autorità, una carta che molto spesso raffigura un uomo che non riesce a lasciarsi andare con i propri sentimenti, lasciarsi andare con la propria vita sentimentale. Quindi queste saranno 48 ore che vi vedranno in qualche modo un po' condizionate proprio da questa situazione. Abbiamo il Papa, abbiamo la carta della torre, abbiamo la carta del diavolo e abbiamo la carta del matto. Vedete, sono 48 ore particolari. Da una parte abbiamo una persona che vuole in qualche modo cercare, insomma, di ritrovare forse un po' questo suo ordine all'interno delle sue convenzioni. Una persona molto formale, probabilmente c'è qualcuno che avrà un forte litigio per quanto riguarda la famiglia o il modo di pensare, le proprie credenze che in qualche modo si trovano in contraddizione con quelle che possono essere i propri sentimenti. La torre rappresenta un evento molto forte, un evento che probabilmente vi farà pensare a qualcosa di estremamente duro che potrebbe succedere proprio durante queste giornate. Così come il diavolo rappresenta un forte blocco personale dovuto ad una situazione del passato a cui vi state aggrappando. E questo è come se qualcosa ricapiterà nuovamente nella vostra vita. Nuovamente vi ritroverete a vivere le stesse emozioni. Nuovamente vi ritroverete a vivere gli stessi sentimenti che probabilmente avete già vissuto in passato e che non siete riusciti a superare nonostante avete fatto il possibile per cambiare una situazione. Ecco perché l'ultima carta è il matto. È come se dobbiamo ricominciare da capo. È come se una nuova energia ci spinge a lanciarci verso qualcosa di nuovo in questo preciso momento. Attenzione perché il diavolo in questo caso vi sta invitando a non prendere troppo sul serio alcune parole che probabilmente possono ferire, alcune parole possono ferire in queste giornate. Quindi non siate innocenti ma cercate di trovare una nuova spontaneità dentro di voi stessi. C'è una distrazione di base, forse anche un'ingenuità probabilmente di base in queste 48 ore che vi rendono un po' creduloni su alcune situazioni. Qui c'è veramente da rivivere o da ripensare a qualcosa che probabilmente sia successa durante il vostro passato e nuovamente ricapita con la stessa forza che è come se non si riesce a superare questo passato che nuovamente ritorna nella vostra vita. Potrebbe essere una persona, sì, potrebbe essere un compagno, un amante, qualcuno che probabilmente vi aveva già avvisato o vi aveva già detto o forse qualcuno ha anche mentito perché queste sono bugie che ci sono dicendo ma io ho superato quel momento, ho superato quella fase, ho superato quelle situazioni ma effettivamente qui sono carte che mi rimandano nuovamente a qualcosa che non è stato realmente superato. Ci sono alcune situazioni, alcune realtà che probabilmente non sono assolutamente state superate al 100%. Quindi qui ci vuole un'energia del matto per ricominciare, ricredere in qualcosa. Quindi mi raccomando, queste sono forse le giornate ideali per dire basta ad una situazione a vivere in un determinato modo per sentirsi magari libero in qualcosa. Allora, vediamo un po' le nostre carte. Allora, c'è qualcuno che sta aspettando te. Ci sono dei messaggi inaspettati, forse dovete essere voi a prendere un piccolo passo in avanti. ha bisogno di tempo e questo è il tempo che secondo me è un grande problema. Sta cercando di capire, insomma ve lo dirà, vi dirà proprio che io ho bisogno del tempo. Non posso correre questo rischio, non posso correre a livello personale, emotivo, proprio in questa nuova realtà. quindi è probabile che ci sia un messaggio durante queste 48 ore che vi richiederà un po' di tempo. Sta aspettando qualcosa però da voi. Vediamo cosa sta aspettando da voi in questo preciso momento. Vediamo un po' cosa sta aspettando per voi. Cosa sta aspettando da voi in questo preciso momento. Allora, una nuova occasione. Attenzione. E l'orgoglio. Vedete come è uscito l'orgoglio nuovamente con l'imperatore, no? Vediamo, carta nascosta e il viaggio che è sempre una carta molto particolare, no? Anche da considerare in questo momento. Però fate molta attenzione. Sì, io credo che qui c'è qualcuno che possa prendervi in giro in queste 48 ore dicendovi io aspetto te, aspetto un tuo cambiamento, un tuo modo di pensare, come se vi dia la colpa sempre e soltanto a voi. Ma attenzione, perché poi alla base c'è questa forte influenza che probabilmente questa persona ha nei vostri confronti. Forse anche un po' l'orgoglio che in questo momento vi sta in qualche modo condizionando in maniera così forte. dentro la vostra... Quindi uno che aspetta, ma vi vuole bene, ma YouTube è importante, ma poi nello stesso tempo io non riesco a cambiare. Ci sono comunque delle bandiere rosse qui, quindi fate molta attenzione perché probabilmente ci possono essere delle realtà che non sono ancora molto chiare. che in qualche modo vi sta dando una nuova occasione. Io te ne do una nuova di occasione. Mi raccomando, questa volta però... Insomma, c'è qualcuno che sta giocando troppo con i vostri sentimenti. Papa, imperatore, come se questa persona sa nascondere questo suo modo di essere. Quindi fate molta attenzione a questa realtà, mi raccomando. Perché sì, ci saranno dei messaggi. Sì, vi chiederà del tempo, ma allo stesso tempo vi lascio un po' sospesi in alcune risposte e questo secondo me deve essere rivalutato molto attentamente in questo preciso momento. 48 ore significative per una relazione, per un uomo che state cercando di capire, per una persona che probabilmente vuole in qualche modo tenervi buono, ma nello stesso tempo non sa realmente quello che vuole. Insomma, sono 48 ore particolari che io non sottovaluterei. Mi raccomando. Va bene? Questo è un breve messaggio per voi. Noi ci sentiremo sicuramente presto. Vi abbraccio. Ciao.